Rieccoci il sindaco risponde all'appuntamento del martedì, rigorosa diretta, 23 minuti. Vi ricordo, anzi vi ricordo, i primi numeri per interagire con noi, per le dirette per chiamare 0498077753 per i messaggi 3453341171 per le email. Prendete nota di questa email, il sindaco risponde, perché dalla prossima settimana registreremo nel tardo pomeriggio del martedì e quindi non avremo le telefonate in diretta, quindi chi ha delle richieste da fare al sindaco ospite in questa trasmissione le può fare tramite le email, scrivendo il nome, il numero di telefono, ovviamente poi il giorno dopo l'amministrazione Padovana si impegnerà a dare delle risposte esaustive a tutti coloro che manderanno i messaggi. Ci sono già quattro messaggi pronti, andiamo a leggerli. Qualche trasmissione fa venne detto che i dossi dissuasori non potevano più essere installati per una direttiva europea. In via Piave la settimana scorsa ne avete messo uno, come mai? Francamente non lo so, posso informare, in via Piave, ma non possono essere messi quelli di plastica, noi i dossi... Quelli dove passano i pedoni, tanto per capire. Esatto, questi sono consentiti, spesso vogliono dire auspicabili. Solitamente le chiedo ai cittadini, perché purtroppo molte persone vanno a vedere c'è fatto un passaggio pedonale, rialzato, ma è leggero, è proprio la protezione del pedone, però devo dire non lo so. Andiamo al secondo messaggio. App Padova partecipa, sembra non funzionare molto bene, c'è qualche novità per il ripristino? Lo chiede Massimo. Sì, sì, partecipa molto importante, perché è un aiuto fondamentale all'amministrazione per far sì di mettere a posto le piccole cose velocemente. So che c'è stato qualche problema tecnico, mi sono osservato oggi in Comune che entro 48 ore è sistemata. Terzo messaggio. È molto importante questa app. Si attenziona? Per quanto ha detto che funziona? Si può pensare di mettere delle piante lungo corso del popolo? Questo lo abbellirebbe e migliorerebbe molto, lo dice Renato. Non so se si possono mettere, però sicuramente il verde è sempre bello. Però nel corso del popolo faccio fatica a pensare, bisogna liberare i marciapie, è un po' difficile per fare queste cose, però può essere un'idea. Può essere un'idea. Andiamo con il quarto, credo di Giabetta. Piste ciclabili. Non le sembra esagerato farle dove non c'è lo spazio adeguato? Sacra Famiglia, ad esempio, anziché migliorare la viabilità, si è creato il caos. La nuova normativa del codice prevede che le piste di scravi possano fare sia protette che segnalate, in due o tre modi, vedete in giro girando. Non cerchiamo di dare il più possibile protezione ai ciclisti, proprio per favorire, come dicevo prima, la mobilità dolce. Adesso non so cosa ho fatto esattamente, per carità, può essere qualche errore, però siamo, sia Michalizzi che Aragona stanno in maniera attiva facendo in maggior... tante piste ciclabili, proprio a protezione dei ciclisti. Purtroppo siamo una città medievale, per cui anche con vie strette, specialmente in centro storico. Cioè, cerchiamo di fare il massimo che consente la legge, sono tutte a norma, ovviamente. Allora, torniamo indietro, nell'attesa che arriva altri messaggi, avete visto i numeri per interagire con noi, e ritorno a parlare della siccità. Perché i fiumi registrano una portata al di sotto del 50% della media e non è ancora, ovviamente, iniziata la stagione in rigua. Va ripensata la gestione dei corsi d'acqua. La falda, le leggo quello che mi sono scritto, è a 51 metri sul livello del mare. Lo stato di guardia inizia a 49 e a 42 c'è lo stato di crisi. Ed è, se continua così come diceva lei prima, questo tempo, lo stato di crisi arriva rapidamente. Cosa si potrà fare? Come ho detto prima, quello che sta sempre presente a Zaia, sta cercando di avere acqua da Trentino a Toage, verso di noi. Cosa non facile. Coprire delle cave abbandonate con acqua. È un progetto che costa moltissimi soldi. La regione si sta andando a fare in questo senso. Però se non c'è pioggia, se non c'è neve, siamo nei guai. Provate a pensare, quando è piovuto l'ultima volta, c'è i quattro gocciolini d'acqua, anche prima, 10 minuti fa, quando sono arrivato. Però questa non serve. Purtroppo, acqua e neve sono una cosa che si manca. Però distinguiamo bene. L'acqua potabile da noi arriva da Vila Vella, Vicenza. E più in ora, sì, c'è un problema enorme. Il problema è che le falde sono 30-35% meno. Più che noi soffriranno i fiumi interni, soffriranno i pesci. Quello stesso è l'estate, purtroppo. Io spero che non si ripeta, perché quest'estate siamo arrivati al limite proprio. Mancava pochissimo anche per chiudere l'incenno di Torre. Perché le turbine si raffreddano con l'acqua che pioveva. Io spero che piova, senza in maniera esagerata, ma piova per parecchio tempo, altrimenti andiamo in difficoltà. Sì, però la domanda, facciamo l'ipotesi, sindaco, che ciò non accadrà, cioè che non piova. Mettiamo proprio la situazione più drammatica che potrebbe capitare. Io non spregare. E cosa succede? Va bene, verrà ridotta l'uscita dell'acqua, verranno ridotte. Però poi alla fine cosa succederà? L'agricoltura andrà in crisi. L'agricoltura va in crisi, ovviamente. Ma è responsabilità di uno di noi, non c'è qualche altro che deve pensare. Non spercare l'acqua, tanto per cominciare... Altrimenti la prenderemo dal mare. Può essere che sia dissalatore, può essere che cambiano. Perché credo no, in un futuro, se succedono queste cose per il cambiamento climatico, per quello che sta succedendo, è l'unica soluzione questa da poter... Dissalatore dal mare. Non ce ne sono altre, però non abbiamo nemmeno ovviamente i pannelli solari per poterlo fare, per disalivare ovviamente l'acqua marina. E qua si vede quanto è importante l'ambiente. Il problema è che però noi non guardiamo, dico non dai sindaco, in generale, non guardiamo mai quello che potrebbe capitare. Guardiamo sempre il dramma quando è capitato. Per anticiparlo qui non siamo mai stati bravi. In questo caso la regione Verito ci sta pensando e sta operando. Io conosco lei che è un imprenditore che guarda molto al giorno dopo, che lei farebbe le cose tutto già oggi per domani quasi. Cioè la politica invece fa quando succedono i drammi. Ecco questa è una cosa, se il cambiamento climatico oramai è nella bocca di tutti, io credo che un governo o chi deve prendersi le responsabilità dovrebbe già attuare dei piani per superire questa difficoltà. Poi succedono i drammi e allora dicono ecco non è colpa di nessuno come prima. Sì, è facile giudicare da fuori. Ma non è che giudico. No, giudica. È difficilissimo. Però sindaco, la politica dovrebbe vedere un passo avanti. Sì, cominciamo a dire che usiamo meno l'auto, andiamo a piedi. E sempre gli altri che devono fare qualcosa, mai noi stessi. proviamo a fare un po' verso noi stessi cosa possiamo fare. Non sprecare l'acqua. Quanto spreco d'acqua c'è? Tantissimo. Vabbè, ma qui ha ragione. No, no, ma io non discorso. Il problema è non sempre pensare che qualcun altro deve fare qualcosa. Possiamo cominciare a pensare noi cosa fare. Sindaco, io non rispondo su queste cose che ha ragione. Io rispondo nella politica che prende decisioni, nel momento in cui c'è una cosa, una gravità, un dramma, una tragedia, tutti si danno da fare. La domanda che ne pongo, non a lei, alla politica, perché la politica è lì per questo, che dovrebbe risolvere i problemi prima che nascono, che crescano. E dovrebbe, in teoria, dico in teoria, le cose più drammatiche, tipo l'acqua, tipo la crisi ovviamente dell'atmosfera e del tempo che c'è, trovare delle soluzioni. Questo dico io, senza dare colpa a nessuno. No, sto dicendo solo che in questo caso la regione verde sta pensando, assistita, sta lavorando, sì, da qualche mese, per cui sanno che c'è questo problema. Quattro messaggi, andiamo con il primo. Arriva. Arcella, quando inizieranno i lavori all'ex Configliacchi? Ci andrà al liceo Marchesi? Quando? Configliacchi. Allora, vi ricordo che è stato, abbiamo ottenuto un finanziamento di 15 milioni di euro per sistemare Configliacchi, per sistemare l'ex CONI, Piazza Dura d'Italia. E però tutti rifatti. Allora, Configliacchi, però, bisogna distinguere la parte storica, quella via Cissano Aspetti, quella è stata già acquistata dall'amministrazione comunale e penso partiranno i lavori, so che ci sono fatti dei progetti, per cui partiranno a breve. Secondo messaggio. No, 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 non finito. Allora, scusate, la parte posteriore, quella diciamo non storica, là verrà acquistata dalla provincia e le faranno una scuola. Questa è un po' più lunga, perché c'è stato qualche problemino sotto l'aspetto tecnico, ma è già definito che sarà acquistata dalla provincia, la provincia ha già le risorse e verrà fatta una scuola. Posso andare con secondo messaggio? Pensavo avesse finito, qui dove venia. Secondo messaggio. L'area ex Via Anelli, per quanti anni rimarrà così abbandonata? L'area di Via Anelli rimarrà pochissimo abbandonata, perché ve l'ha fatta la costituzione di Padua. C'è già in corso il progetto, sotto l'aspetto alla gara manca pochissimo, per cui io penso che tra qualche mese sarà finita la gara e il progetto, fine anno partiranno i lavori. Vi ricordo che vogliono 6-7 anni. cioè con l'amministratura si è assunta la responsabilità di ente appaltatore, per cui cercando i tempi, però avevano detto che c'erano 7 anni, un anno è passato e c'erano altri 6. Altro messaggio. Ponte Vigo d'Arzere, area enorme, transennata, che confina con il capolinea del tram, da anni abbandonata. È un'area privata, non è pubblica, abbiamo più volte chiesto che il privato intervenga, è un'area anche abbastanza grande, hanno ragione, e questo è il problema. Quando c'è il diritto, ovviamente, il privato va rispettato, però quando nascono queste cose, dopo ne fare spese a collettività, è difficile anche intervenire col privato. posso fare l'ordinanza di pulizia, però non è facile, però hanno ragione, mi attiverò un'altra volta per far sì che venga sistemata l'area. È in vendita comunque. Ultimo messaggio di questa serie. Il salotto del centro è pieno zeppo di negozi chiusi, non si può fare proprio niente? Pieno zeppo di negozi chiusi, non mi sembra francamente, assolutamente. Se c'è qualche negozio chiuso, a pieno zeppo di negozi chiusi, proprio non giusto. Se non su strade, purtroppo non sono commerciali. Devo dire che il centro storico sta andando abbastanza bene, soffre un po' la periferia, questo sì, ma il centro storico sta funzionando bene. Sono tutti contenti, francamente, dei risultati hanno solo rispetto al commerciale. e senta, mi dicono, ma anche una marea di turisti, ma tantissimi, per cui, sotto l'aspetto di ristorazione, bar, ristoranti, negozi, sono tutti soddisfatti. Io ci giro in centro, parlo con le persone, non c'è insoddisfazione. Qualche negozio è chiuso, e non è bello, obiettivamente. Ci può fare qualcosa. L'anno scorso abbiamo incentivato ulteriormente per far sì che vengono riaperti i negozi, anche l'incentivo sul proprio economico. Però non vedo questi grossi problemi. Mi ricordo solo, conoscendo la campagna elettorale, ho fatto fatica a trovare la sede elettorale, ma tanta fatica. Anche qui, con salvo molto. Certo. Senta, continuano ad arrivare i mail durante la settimana per via dei monopatti e delle biciclette parcheggiati in modo un po' maleducato da parte delle persone. Nell'e-mail che ho qui continuano a dire che l'amministrazione con i vicini fa dei controlli e fa i controlli, ma mi dicono che continuano a vederli. Si può fare qualcosa di più? È la domanda. Togliamo il credito quando sono parcheggiati male. E se ovviamente se noi vediamo messi male, non è che vediamo in persone che mette male in quel momento, per cui è difficile fare qualcosa. Educazione e responsabilità agli altri. Lo so, è pericoloso abbandonare un monopattino perché la possono... Una proposta che la faccio io, ma non so, si può cominciare a fare qualche campagna pubblicitaria e dire mettete bene la bicicletta, mettete bene il monopattino per... Non facciamo in continuazione. Cioè, comunicare diversa... Non so, la gente non è così... Togliamo il credito, togliamo i soldi dal... Per cui, lo sanno tutti che quando vengono parcheggiati male, in minera pericolo, togliamo il credito. Per cui... Per cui, insomma... Però, hai migliorato molto la situazione, perché alla sera, se avete notato, chi è responsabile di queste monopattine e bicicletta fa tutto il giro di notte per sistemarli. Al mattino si trovano abbastanza a posto. E' chiaro, quando uno si trova monopattino davanti, o specialmente un anziano, un disabile, una mamma con la carossina, chiaro, è un problema. E' stato fatto appello centinaia di volte, state attenti, non comportatevi a corretta. Perfetto, ora andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte del Sine Corrisponde. Rimanete con noi, tra poco. Rimanete con noi,